Questo è veramente un nuovo laboratorio di assoluta vanguardia, l'avanguardia assoluta in Italia, destinato a servire un'area vasta di Milano e della Lombardia, perché noi qui in Lombardia sentiamo l'obbligo di essere nel servizio dei nostri cittadini i più avanti di tutti, perché i nostri cittadini meritano di essere aiutati, serviti nel migliore dei modi possibili e quindi abbiamo deciso questo investimento in Regione Lombardia di 15 milioni di euro per dotare il laboratorio delle migliori tecnicalità, delle migliori tecnologie che siano a disposizione. È una risposta positiva che la nostra Regione tramite l'ASL ha saputo dare alla capacità di rispondere in ambito di prevenzione che la nostra sanità ha, credo Presidente che sia una delle altre eccellenze che possiamo consegnarle che sono sue, perché sono della nostra Regione. Io voglio di nuovo salutare tutti voi e esprimere apprezzamento per il lavoro che fate, perché so bene che a poco varrebbero le macchine più moderne e le attrezzature più sofisticate se non ci fossero delle persone, uomini e donne, che sanno utilizzare quelle macchine e quelle tecnologie con la preparazione migliore possibile e io aggiungo anche con il cuore e con la volontà migliore possibile.